Ciao a tutti e benvenuti su Lady Cosset. Oggi, torniamo a parlare di Antonella Fiordelisi e della sua storia ormai conclusa con Edoardo Donnamaria. Recentemente, la comunità online ha riportato in auge questa vicenda, e l'influencer stessa ha deciso di condividere ulteriori dettagli nei suoi canali social, gettando ancora più luce su questa situazione intricata. Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla fine della relazione tra Antonella ed Edoardo, Sembra che la storia sia lontana dall'essere definitivamente chiusa. I sostenitori dei Donnalisi continuano a nutrire speranze di una possibile riunione futura. Tuttavia, le ultime polemiche avvenute su Twitter mettono in dubbio la possibilità di una riconciliazione. Le dichiarazioni incrociate sui social hanno dato vita a un escalation di tensioni che coinvolge direttamente Antonella. Cosa è successo di preciso? Per scoprirlo iscriviti al canale Lady Cosset e attiva la campanella. In risposta a un presunto commento indiretto, Antonella ha lanciato una risposta piccata, lasciando intendere che alcune persone dovrebbero essere grate di avere a che fare con una figura pubblica come lei. Le sue parole hanno fatto scalpore, soprattutto perché sembrano rivolte a Camilla Gini, l'ex migliore amica di Edoardo. Camilla, in una trasmissione radiofonica, avrebbe accennato a un coinvolgimento di Edoardo con un'altra persona. La situazione è diventata ancora più spinosa quando si è scoperto che il tono dell'osservazione di Camilla era provocatorio, evidentemente diretto ad Antonella. Quest'ultima, insieme ai suoi fan, è rimasta sorpresa e ha difeso la sua privacy. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sui social, con sostenitori di entrambi gli ex partner. Il pubblico è diviso tra chi sta dalla parte di Antonella e chi appoggia Edoardo. Il confronto tra l'ex coppia sembra non avere fine, alimentato dalle loro risposte incisive. Continuate a seguirci su Lady Gossip per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e tutte le ultime notizie dal mondo dello spettacolo. Non dimenticate di lasciare un like, condividere il video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati.